Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Italia Economia, oggi Bologna Fiere, Ambiente Lavoro 2023. Parleremo di sicurezza, parleremo di formazione e tanto altro. Siamo in compagnia dell'ingegner Federico Maritane, intanto grazie dell'ospitalità, direttore scientifico di Vega Formazione. Vega Formazione non avrebbe bisogno di presentazioni perché è un punto di riferimento per quanto riguarda le tematiche inerenti alla sicurezza con un portale ovviamente importante. Sì, diciamo che la storia di Vega Formazione inizia molti anni fa e oggi ha avuto uno sviluppo importantissimo. Noi ci occupiamo di formazione primariamente in materia di sicurezza sul lavoro e diciamo che i numeri ci stanno dando grandi soddisfazioni perché quest'anno ormai sono nel primo semestre più di 75 mila le persone che abbiamo formato attraverso i nostri corsi di formazione nelle varie modalità, in presenza, videoconferenza, e-learning. Il tema della formazione poi in materia di salute e sicurezza è fondamentale nel tentativo di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro che purtroppo, almeno per quanto riguarda gli infortuni mortali, da anni non cambia, non cambia e abbiamo sempre questi numeri tragici che leggiamo nei giornali, sentiamo in televisione ma purtroppo non riusciamo a incidere come vorremmo. Ecco, ingegnere, come si sviluppano, come si articolano i vostri corsi, le varie possibilità? Beh, allora, la formazione, rimanendo sempre nell'ambito della sicurezza, ha naturalmente e tipicamente delle parti teoriche in aula e delle parti pratiche di addestramento perché è fondamentale, soprattutto nei lavori più a rischio che il lavoratore impari con l'addestramento ciò che deve andare a fare e impari le corrette procedure per evitare evidentemente i rischi. E quindi noi abbiamo uno spazio, abbiamo organizzato uno spazio di oltre 900 metri quadri ormai dove riusciamo ad addestrare i lavoratori alle varie attività a grande rischio come possono essere i lavori in quota, i lavori in spazi confinati, l'uso di attrezzature pericolose, banalmente anche il carrello elevatore che spesso purtroppo determina infortuni gravi. Quindi questo, diciamo, è l'ambiente dove i nostri discenti si muovono per acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per il loro lavoro. Ricordiamo che l'iSport è a Mestre, con la sede storica di Mestre, ma ovviamente potete essere presenti in tutti i mercati. Sì, diciamo che qui la pandemia ha dato un fortissimo sviluppo alle tecnologie della videoconferenza e anche ha sbloccato culturalmente questo strumento e quindi oggigiorno si usa moltissimo appunto la videoconferenza per fare formazione. Per dare dei numeri i corsi di formazione vengono svolti nel 70% dei casi in videoconferenza ormai e devo dire anche che utilizzando in modo, diciamo, sapiente ormai lo strumento si riescono a organizzare corsi di formazione molto interattivi. Abbiamo sviluppato esercitazioni che si riescono a fare appunto con questa modalità per coinvolgere i partecipanti e anche per cercare di metterli alla prova in merito agli argomenti che abbiamo trattato. Sono poi quelli che lasciano di più, ecco, che fanno sì che tutto venga assimilato al meglio. Diciamo sicurezza ma non solo per quanto riguarda Vega Formazione, anche energia e tanto ha. Certo, la storia di Vega Formazione inizia ormai 30 anni fa e nasce appunto con la formazione in materia di sicurezza ma poi si è sviluppato e si è ampliata su altri temi, oggi soprattutto l'ambiente, l'energia, temi fondamentali ovviamente per cercare di portarci verso uno sviluppo sostenibile, la sostenibilità appunto. Ultimamente stiamo parlando molto di responsabilità sociale, abbiamo da poco tra l'altro attivato un corso di formazione sulla certificazione della parità di genere, quindi tutti questi argomenti si stanno, diciamo, privacy certamente, sicurezza alimentare, quindi il nostro catalogo ormai è diventato rampissimo. Sono tematiche assolutamente così che ci coinvolgono tutti e voi siete in primo piano ovviamente per dare un contributo fattivo che possa migliorare quelle che poi sono le condizioni sociali. Certo, infatti la nostra mission è anche quella di portare consapevolezza, noi organizziamo, a di là della formazione di cui parlavo prima, seminari divulgativi con grande costanza, ne organizziamo anche a volte più di uno al mese e poi vengono questi seminari riportati nella nostra piattaforma e-learning e messi a disposizione gratuitamente, quindi chiunque li può andare a vedere e quindi essere anche informato sulle novità normative.